È una giornata di quelle da ricordare e da godere, da condividere tutti insieme, perché il ritorno del contingente della Brigata Riete dal Libano, l'ufficiale ritorno, il modo di festeggiare il fatto che siano di nuovo a casa tutti, è uno di quei momenti in cui la città si stringe intorno a queste persone che vanno in un posto così complicato, così complesso, un paese in Libano che vive veramente in prima linea l'emergenza dei rifugiati, ne hanno un milione su quattro milioni in tutto di popolazione, voi capite, rende a volte anche le nostre discussioni su quelli che noi aiutiamo nel Mediterraneo quasi ridicole. Loro le hanno viste da vicino queste cose, hanno portato la loro umanità, la loro operatività, la loro esperienza e siamo fieri che l'abbiano fatto come sempre, dimostrando che cosa valiamo come italiani, la nostra umanità, la nostra capacità di essere vicini a tutti, prima di tutto a prescindere dalle posizioni ideologiche e religiose. Siamo orgogliosi, siamo finalmente alla tensione finita, siamo felici di vederli a casa, siamo vicini ai loro cari che hanno sicuramente, sono stati preoccupati per sette mesi, bene, una giornata di festa e speriamo che la dignità di queste spedizioni e i soldi spesi in queste spedizioni siano sempre visti da tutti noi come ben spesi.